Avrebbe danneggiato ben otto automobili a Pachino, dandole alle fiamme. La polizia di Stato ha arrestato Salvatore Casella, 32 anni, disoccupato, con precedenti penali. Le indagini condotte alla polizia, al comando della dirigente del commissariato di Pachino, Maria Antonietta Malandrino, si fondano sulle immagini delle telecamere di sicurezza, sistemate tra Via Nuova e Via Pellegrino Rossi. In questo tratto di strada, gli inquirenti sono certi di aver individuato l'attentatore, che in quell'occasione indossava un giubbotto, mentre in mano aveva una bottiglia di plastica, presumibilmente con del liquido infiammabile. Il filmato più importante, sotto l'aspetto investigativo, è quello in cui si scorge l'uomo a dirigersi verso un folgone Renault, il primo ad essere divorato alle fiamme. È probabile che l'obiettivo fosse solo quel mezzo, ma il rogo è marciato rapidamente verso gli altri veicoli in sosta, e contro le facciate e le palazzine vicine, causando molta paura fra i residenti e la zona. In merito al movente, non ci sono al momento elementi di prova schiaccianti, solo sospetti, ma tutto ruoterebbe attorno al proprietario di quel furgone. Gli inquirenti sotto questo aspetto stanno provando a capire in che rapporti sia nel presunto attentatore e la vittima, e soprattutto se di recente ci sono stati degli screzi, ma resta da svelare un altro aspetto, cioè se il disoccupato è solo un esecutore di un piano studiato da un altro.